Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Viagioni. Per il momento il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. Si ricorda che fino all'8 dicembre a causa di una frana avvenuta al km 79-865 della PPLI rimarrà chiuso il tratto al km 0 della provinciale 224 di Marina di Pisa presso lo svincolo via Quaglierini a Livorno. A causa di movimenti franosi sulla statale 12 dell'Avetone del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano. Sulla statale 64 Porrettana invece chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte dell'Aventurina in prossimità del confine con l'Emilia. Uno sguardo ai cantieri di Firenze in via Reginaldo Giuliani a causa di lavori di asfaltatura sono previsti restringimenti di carreggiata a tratti dal 1 al 20 aprile. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!